Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travater91 e dopo Torloventander torniamo a parlare di un nuovo film nel Marvel Cinematic Universe. Anzi sarebbe più corretto dire torniamo a parlare di un lungometraggio perché effettivamente se parliamo di film è uscito da non molto L'Icantropus che era un mediometraggio ma di fatto è un film per essere un film, non è che devi essere oltre una certa lunghezza, anche i corti di due minuti valgono come film. Quindi appunto parliamo del trentesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, trentunesimo film se contiamo anche L'Icantropus e ultima opera della fase 4 che qui si chiude e si dovrebbe poi aprire l'anno prossimo con Ant-Man and the Wasp Quantumania perché a quanto pare lo special sui Guardiani della Galicia non contento riesce prima quello di Ant-Man and the Wasp. Comunque, come leggete dal titolo, parliamo di Black Panther Wakanda Forever. O cosa sarebbe più corretto dire Wakanda Forever che ormai io riesco solo a pensare a questo dopo aver visto il film in lingua originale in cui si diceva più o meno con questo accento che sicuramente non ho replicato benissimo però il concetto è quello. Quindi appunto, Black Panther Wakanda Forever, seguito, io uso sempre le virgolette perché in un universo condiviso come fa a stabilire di preciso cosa è seguito di cosa, comunque ufficialmente seguito di Black Panther, film uscito nel 2018 di cui io qui ho la Steelbook, guardate qua che carina, non la migliore dell'MCU, quella rimane Civil War però secondo me anche questa non è male. Comunque, il primo Black Panther era appunto uscito nel 2018 ed era un film che aveva destato scalpore negli Stati Uniti, aveva superato il miliardo, un successo inaspettato tanto che appariva abbastanza evidente che Black Panther sarebbe diventato il nuovo frontman degli Avengers a differenza di ad esempio Capitan Marvel come si pensava all'inizio che pur avendo incassato tanto non aveva avuto lo stesso riscontro positivo che aveva ottenuto il personaggio di Black Panther, riscontro così positivo che era stato nominato addirittura a una cosa come sette premi Oscar tra cui miglior film. Miglior film non l'avrebbe mai vinto, lo sapevamo tutti, già la nomina era un traguardo, ma si era comunque portato a casa tre Oscar per colonna sonora, scenografia e se non ricordo male costumi. Quindi insomma un film che era stato molto apprezzato e quindi appunto si aspettava il secondo capitolo. Se non fosse che nel 2020, già un anno già felicissimo per i motivi che purtroppo ricordiamo tutti, tra le tante notizie che sono un colpo al cuore, viene fuori Chadwick Boseman, interprete di Challa, ovvero Black Panther, è morto di cancro. Si è poi scoperto che lui aveva saputo di avere il cancro poco dopo aver fatto Civil War e quindi quando ha girato sia il primo Black Panther che Infinity War e Endgame stava già lottando contro il cancro. sembrava che l'avesse sfangata, se non sbaglio, o subito o prima o subito dopo le riprese di Black Panther, boom, il cancro era in remissione. Purtroppo poi è tornato e nel 2020 ci ha lasciato. Tra l'altro aveva anche regalato altre performance, ad esempio l'avevo visto nel bellissimo Da Five Bloods di Spike Lee, fin molto bello e lui lì era molto bravo, aveva anche ottenuto la nomination postuma, non per Da Five Blood per un altro film, però comunque aveva ottenuto la nomination postuma che però non aveva vinto. Ovviamente sorgeva il problema, è ok, è mo' con Black Panther che facciamo, perché non puoi truncare un franchise così redditizio, ma sorge il punto, ricasting o non ricasting, la decisione alla fine è stata di non ricastare il personaggio, come è morto l'attore, anche il personaggio deve morire, ha dovuto morire all'interno del Marvel Cinematic Universe. Parleremo più avanti nel video se secondo me sia stata una decisione giusta o meno, e mettiamoci qui appunto a parlare, adesso iniziamo a parlare della trama, che appunto parte col fatto che Challa muore anche nell'universo di Black Panther, viene organizzato il suo funerale, e un anno dopo il Wakanda sta ancora cercando di riprendersi dal lutto. a governare il paese è tornata Ramonda, la madre di Black Panther, la quale era stata regina finché non le era morto il marito Chaka, l'abbiamo visto in Civil War, poi il trono appunto era passato al figlio, adesso lei si ritrova a dover di nuovo governare, una nazione che tra l'altro, ricordiamolo, alla fine del primo Black Panther, Challa aveva svelato al mondo, sembrava una bella cosa, adesso il Wakanda potrà condividere le sue risorse con tutti, se non fosse che adesso uno le nazioni stanno cominciando a cercare il vibragno anche al di fuori del Wakanda, e stanno anche cercando di sottrarre il vibragno dal Wakanda pensando che ora sia senza difese, e tanto che a un certo punto una trivella trova del vibragno, ma vengono attaccati da dei misteriosi uomini sottomarini, e salterà fuori appunto la città di Talocan, una sorta di Atlantide con un nome diverso perché comunque è una città sommersa, guidata da Namor, che è appunto il re, tra l'altro scopriamo, ultracentenario di questa località sottomarina, che è considerato addirittura un dio dai propri sottoposti, che non vuole che la propria città venga colpita, e quindi si ritroverà a chiedere dapprima l'alleanza con il Wakanda, e poi a combattere nel momento in cui il Wakanda rifiuterà di muoversi alla conquista del resto del mondo, al fianco appunto di Talocan. E in mezzo a tutto ciò c'è anche il fatto che Shuri, la sorella minore di Challa, non è ancora riuscita a elaborare il lutto per il fratello, è piena di dolore e di rabbia, e quindi oltre a dover proteggere la sua nazione dovrà appunto elaborare il lutto, e poi in generale bisogna trovare una nuova panterra nera. Cosa più facile a dirsi che a farsi, si visse considerato anche che, se vi ricordate, nel film precedente il cattivo Killmonger aveva fatto bruciare tutti i fiori della pianta che appunto, se ingeriti, potevano darti il potere della pantera nera. Ora, questo film appunto era molto atteso, perché appunto bisognava vedere cosa avrebbero combinato con un soggetto così delicato, ovvero creare una sorta di storia metanarrativa che parla in cui il lutto dei personaggi corrispondesse al lutto che effettivamente gli stessi membri del cast hanno provato quando è morto un loro collega con cui tra l'altro si sono sempre dichiarati molto legati, è un lutto che in generale ha vissuto Hollywood, perché Boseman non era sicuramente l'attore più affermato di Hollywood, ma si stava facendo un nome e appariva piuttosto ben voluto. Ragazzi, ha comunque lavorato con Spike Lee, che è un regista che per quanto sia un cagacazzi, è comunque un regista di punta. E bisognava appunto proseguire un franchise che in America è molto apprezzato, perché lì dove il tema del razzismo è molto sentito, e tra l'altro c'è stato nel 2020 il movimento del Black Lives Matter, Black Panther, che era un film con dei problemi, ma che comunque trattava secondo me la tematica razziale in maniera molto interessante, del motivo per cui a me è piaciuto tantissimo. Avere un film del genere che era visto proprio come baluardo della cultura nera in America, bisognava portarlo avanti con una certa delicatezza, visto anche appunto la tragedia che l'aveva colpito. I trailer lasciavano veramente ben sperare, perché erano i trailer fantastici, soprattutto secondo me il secondo che hanno fatto, e anche le recensioni, in particolare l'Oltreoceano, erano entusiastiche, critici che dicevano di aver pianto, di aver trovato il film emozionante, finché tra l'altro si pone anche come un mega colossal di 2 ore e 40, il secondo film più lungo del Marvel Cinematic Universe, più lungo c'è solo Endgame, che era Endgame, cioè era il mega eventone che concludeva la saga dell'infinito. Io quindi insomma ero carico al massimo, anche se poi sono arrivate le recensioni sia da critici italiani che da youtuber, miei colleghi, amici, e lì la cosa sembrava non promettere benissimo. Non si parlava di un brutto film, ma di un film molto a di sotto dell'hype e delle aspettative creato da delle recensioni d'Oltreoceano. Tra l'altro per impegni vari, io sono riuscito a vederlo soltanto domenica, quindi ho anche avuto diciamo qualche giorno in cui sono cominciate a fioccare opinioni non proprio positivissime. Io comunque alla fine lo sono andato a vedere all'Arcadia di Melz o domenica alle due un quarto, che è un ottimo orario in realtà perché la sala anche se c'è un po' di gente comunque puoi tranquillamente trovare dei ottimi posti. E allora che dire? Si può dire che, meno male per certi versi che ho avuto prima quelle opinioni che hanno abbassato le aspettative perché effettivamente mi hanno aiutato a metabolizzare meglio certe cose. Ora, partiamo da quelle che per me sono le due grosse noti dolenti di questo film. Ce ne sono altre ma secondo me sono piccolezze, per dire ci sono alcune ingenuità, ci sono delle cose che dici sì questa cosa è un po' stupida, ma è un blockbuster che pur con una certa serietà vuole essere anche di intrattenimento, sono cose che abbiamo tranquillamente tollerato in film molto più riusciti, quindi quelle sono piccolezze che dico ok posso anche fartele notare ma chissene. I problemi più grossi sono innanzitutto la questione della durata o meglio. Molti dicono fin troppo lungo. Sì, ma non è lungo nel senso di potevano tagliare delle sequenze, non c'è stata una sequenza che ho pensato sì questa l'avrei tagliata, ma la durata si sente. Ma secondo me il problema è il ritmo, è un film che prova a prendersi fin troppo i suoi tempi, cioè non vuole essere per dire Doctor Strange and the Multiverse of Madness sono poco più di due ore ed è un film che corre all'impazzata, ha sì dei momenti di calma, ma non sono momenti proprio distesi, c'è comunque sempre l'idea di una minaccia incombente, c'era il cattivo che stava arrivando e tutto quanto, quindi era un film in cui eri molto preso. Qui ho letto il tentativo di fare una cosa simile Eternals, anche in Eternals comunque si cercava di essere più riflessivi, calmi, rilassati, in alcuni casi anche troppo, sebbene Eternals mi sia piaciuto proprio per questo suo approccio così inedito all'MCU, era abbastanza evidente che in più di un'occasione dicevano eh, tra qualche giorno il mondo finisce è un lì che pensavo ok, il mondo sta per finire. Muoversi allora, visto che lo sapete signori, scusatemi eh! Qui, anche qui, cioè non c'è un senso di urgenza così esagerato, però si vede insomma che il film cerca di essere riflessivo, a volte anche troppo. Anche il primo Black Panther, devo dire, soprattutto nella parte centrale sentivo un po' la pesantezza, soprattutto perché non si capiva bene dove volesse andare a parare, qui si sente un po' di più. Ora non dico che appunto fosse un film che dovesse avere un ritmo concitato in cui bisognasse correre, perché appunto stai comunque parlando di un film che ha tra le sue tematiche l'elaborazione del lutto, quindi chiaramente non puoi correre, fare troppe battute e sulla questione battute ci torniamo dopo. Però un po' si nota, cioè un po' veramente non voglio definirlo un film pachidermico perché sarebbe veramente ingeneroso, non siamo a questi livelli, soprattutto perché poi nella seconda part, nella seconda metà secondo me il ritmo migliora. Però è indubbio che è un film che poteva essere un po' velocizzato in alcuni punti del livello di ritmo, cioè poteva far succedere le stesse cose ma appunto con un ritmo più un pochino più sostenuto, non tantissimissimo ma un pochino di più. Questo è il primo problema. Il secondo è appunto la scelta di non ricastare Boseman e uccidere Black Panther perché si era abbastanza intuito che sarebbe stato un film corale anche perché come hanno fatto notare tutti tutti i post e le cose erano Black Panther Wakanda Forever in grande quindi si capiva che si volesse realizzare un film più sul Wakanda o più diciamo più sul cast di comprimari visto che il protagonista è morto e questo è un po' un problema perché nessuno di questi comprimari neanche più interessanti riesce a tenere secondo me la scena perché perché sono appunto pensati come comprimari non ce n'è uno che dici è un po' il discorso che io farei per fare un esempio un po' particolare quando hanno fatto lo spin off Joy cioè c'era Friends e poi hanno fatto Joy con solo appunto il personaggio di Joy qual era il punto che Joy era un personaggio pensato in una dinamica di gruppo nel momento in cui lo metti da solo non funziona più perché non era pensato per quel ruolo qui la stessa cosa Ramonda Shuri Everett Ross Embaku sono tutti personaggi che chi più chi meno a me piacciono in particolare Everett Ross ed Embaku io li adoro mi sono piaciuti anche qui però appunto si vede che sono comprimari che si ritrovano come tutti gli altri a essere appunto protagonista ognuno di una propria side quest ma manca un perno centrale che attiri il tutto a sé e quel perno era appunto Challa motivo per cui per il film sarebbe stato molto meglio ricastare Challa anche perché qui bisogna aprire una parentesi e molti hanno detto ma scusami non ricasti Challa ma ricasti William Hart anche lui morto l'interprete del generale Ross lo ricasti con Harrison Ford che si è detto apparirà nel quarto film dedicato a Capitano America il primo con protagonista Sam Wilson che sarà che appunto erede di Steve Rogers molti dicono ma sono due pesi due misure sì ovvio ma il motivo c'è da un lato abbiamo Challa un eroe dall'altro abbiamo Ross che è sempre stato un po' un antagonista e nella MCU la regola d'oro è gli eroi contano più degli antagonisti ci sono stati dei cattivi approfonditi in particolare abbiamo avuto Thanos che è iconico all'Arcadia c'è ancora una statua di Thanos con tutta l'armatura e la mega la mona da Endgame e c'erano dei bambini che sono entrati e un bambino che chiaramente non era mai stato io ha detto c'è Thanos che è una cosa che con moltissimi altri cattivi dell'MC1 non diresti mai perché sono molto anonimi però a parte giusto questa eccezione sono sempre gli eroi a contare di più quindi ricastare un cattivo fa meno senso che ricastare un eroe in più uno può dire ok però avete già ricastato ai tempi Edward Northrop con Mark Ruffalo per Hulk e Terrence Howard con Don Cido per War Machine sì ma lì eravamo agli inizi War Machine era un personaggio secondario anzi ai tempi Rudy War Machine entrava in scena in Iron Man 2 Rudy era un personaggio secondario che ancora doveva diventare un eroe Hulk era già un personaggio più importante ma il film con Edward Norton era stato un flop quindi non è che si era inserito nella memoria qui ragazzi parliamo ripeto di un cinecomic dell'unico cinecomic Marvel nominato agli Oscar a miglior film diciamo che questo mettino qui aveva che tra l'altro poi era già apparso tipo in quattro film cosa che appunto sia Norton che Howard erano apparsi in un unico film insomma la situazione era un po' diversa non è così strano che abbiano deciso di non ricastare lui ma di ricastare l'altro in più rendiamoci conto credo che qui la questione sia anche se avessero ricastato Boseman avremmo avuto action figure inevitabilmente con la faccia del nuovo attore perché non puoi andare avanti con i film e continuare a vendere i pupazzi di Boseman posto che solitamente Black Panther lo vendi comunque con la maschera perché tra i bambini è la fiction figure del supereroe mascherato cioè Iron Man è quasi sempre quasi sempre l'armatura non c'è Tony Stark però comunque se a un certo punto vuoi fare anche solo dell'action figure per i collezionisti devi usare la faccia del nuovo attore suona strano avere Boseman in giro cioè scusami avere un nuovo attore in giro e poi Boseman invece che presta la faccia a Black Panther e comunque per dire anche solo quando i bambini i spettatori avessero immaginato le proprie avventure degli Avengers chi da bambino non ha mai immaginato i personaggi in altre avventure anche magari quando giocava eccetera ci saremo tutti adattati alla faccia del nuovo attore nessuno immagina Bruce Banner con la faccia di Noir North pensiamo tutti giustamente a Mark Raffalo farlo con Boseman sarebbe suonato un po' brutto per la famiglia a livello umano l'ammiro molto poi soprattutto in una Hollywood che spesso viene accusata di essere stronza di fregarsene delle persone eccetera purtroppo se guardiamo poi il risultato finale del film la mancanza di un Black Panther realmente carismatico si sente ora non vi dirò chi prende il suo posto come Black Panther ma vi dico solo che no non hai carisma di Boseman mi dispiace quindi va considerato un film disastroso in realtà no perché al netto comunque di questi due difetti che però sono lì da vedere e lo rendono secondo me di molto inferiore al primo che mi era piaciuto un sacco pur anche lì con dei problemi ci sono comunque dei pregi innanzitutto la CGI è considerevolmente migliorata sono pochi gli effetti visivi che non sono riusciti e se c'era un grosso tallone da chine nel primo Black Panther erano proprio gli effetti digitali che mamma mia soprattutto poi in questo periodo in cui la qualità media degli effetti visivi sia nell'MCU che in generale sta calando perché c'è una tale richiesta che le case di produzione che le ditte degli effetti visivi non riescono ad accontentare tutti come si deve qui si vede che è stato speso un certo occhio di riguardo in particolare Talocan non si vede tantissimo ma in generale la resa l'estetica eccetera sono superiori ad esempio ad un Aquaman film che a me diverte anche per quanto è cazzone e trash ma che aveva una CGI che secondo me in alcuni punti in realtà era molto più riuscita di quanto molti dicono ma in altri un po' il problema si notava qui i difetti sono veramente pochi poi lo dico tra un mesetto arriva Avatar 2 e a livello di effetti visivi si mangia qualunque cosa sia uscita ma tipo negli ultimi dieci anni anche roba bella però Black Panther non mi lamento a parte qualcosina qua e là gli effetti visivi sono molto migliorati la regia di Ryan Coogler allora in un paio di punti ci sono dei ralenti che anche meno più che altro è sempre lo stesso tipo di ralenti ovvero c'è uno o più personaggi che vengono sbalzati via da un qualche comp una qualche esplosione e c'è tipo l'immagine c'è tipo esplosione personaggi là dietro poi c'è tutto puto per far vedere quanto l'esplosione è tremenda ci sta una volta ci sta due volte la quinta ok è un film di 2 ore 40 quindi uno dice 5 ralenti un po' di più di 5 però 6 7 ralenti in 2 ore 40 non sono tantissimi però è una roba che la vedi cioè ti pesa anche se sono pochi in un film piuttosto lungo però c'è da dire che è comunque una regia quadrata più chiara nei combattimenti alla luce del sole che in quelli scuri in alcuni punti la fotografia ed era l'arcadia quindi non c'era l'illuminazione scrausa in alcuni punti la fotografia è un po' troppo scura e i combattimenti si capiscono abbastanza ma potevano essere ancora più chiari il peggio credo che rimangano i combattimenti notturni in Spider-Man Uncoming soprattutto nella parte finale in cui veramente non si capiva nulla qui si capisce già qualcosina in più diciamo però si poteva fare di meglio invece tutte le scene alla luce del sole funzionano chiarissime cristalline perfetto e c'è anche un momento con un piano sequenza che forse dura un po' troppo però è bene ben fatto insomma si vede che Coogler voleva dimostrare di essere migliorato come regia rispetto al primo Black Panther che non era una regia orribile ma niente di che anche qui per la maggior parte senza fame senza lode però ogni tanto qualche piccolo tocco ce l'ha ma continua a restare migliore secondo me la regia di Coogler in Creed nato per combattere dove lì veramente era stato al top tornando appunto alla questione Talocan al di là della questione effetti visivi tra l'altro ho sentito che pare che alcune parti sottacqua siano state fatte con gli attori che realmente trattenevano il respiro e quindi complimenti comunque in generale non è la cosa cioè Talocan c'è l'inquadratura lì che ti vuole comunicare Sense of Wonder diciamo che dopo che hai visto anche solo il terreno di Avatar 2 è veramente poca roba però l'estetica è abbastanza credibile in particolare una cosa che molti dicevano è ma riusciranno a rendere credibile Namor anzi Namor come lo chiamano nel film ma c'è un motivo sa questo accento sul grande schermo perché ragazzi sul serio l'ho già fatto vedere nel mio video degli acquisti di Lucca io ho acquistato lì Iron Man il Demone in bottiglia c'è anche Namor qui lo posso chiamare con l'accento classico cioè ragazzi stiamo parlando di un tizio con le orecchie a punta e vabbè che va in giro unicamente con queste bermuda verdi a scaglie e con queste cazzo di alettine ai piedi che quando le agita vola tipo Hermes nella mitologia greca una roba veramente idiota la Marvel l'MCU è sempre stato bravo a rendere credibili personaggi dal design idiota tutti citano sempre me compreso la Mysterio che è uno che ha una boccia per pesci come testa ultimamente però non tutto aveva convinto in particolare il personaggio introdotto nella mid credit di Tor Love and Thunder quando l'abbiamo visto molti me quando l'hanno visto molti me compreso hanno pensato oh mio dio che roba camp veramente inguardabile si temeva la stessa cosa con Namor dai primi concept il problema secondo me non si pone in realtà sia la sua popolazione che Namor stesso funzionano funzionano sono credibili riesco a vermi che esistano in questo mondo quindi assolutamente ci sta la giustificazione sul fatto che non fossero mai comparsi ci può stare sebbene ormai la cosa di roba che esisteva nell'MCU da un pezzo nessuno se ne è mai accorto comincia veramente a stancare ma non l'ho trovata così pesante qui quindi ok ci può stare ecco parlando di universo condiviso si sente un pochino qui il fatto che il Wakanda sia in pericolo e nessun Avenger intervenga per quanto venga mostrato come appunto il Wakanda dopo la morte di Challa si stia un po' reisolando in contrasto proprio perché il dolore del lutto li fa restringere tutti tra loro isolandoli cosa che appunto Challa non avrebbe voluto c'è questa cosa piuttosto amara che non viene neanche detta ma si può intuire e c'è una punta di amarezza niente male si mantiene qui un trend tra l'altro del primo film ovvero una una maggiore drammaticità rispetto agli standard MCU è uno dei film con meno battute credo che se facessimo la conta siamo a livelli di Eternals Winter Soldier cioè battute veramente ridotte all'osso c'erano di più nel primo Black Panther in particolare perché c'erano ad esempio le interazioni divertenti tra Shuri e il fratello che però vi ragioni qui ci siamo belli che giocati ci sono comunque alcuni momenti genuinamente divertenti ecco questo è il tipo di umorismo che dovrebbe usare la Marvel ovvero la battuta non viene caricata troppo perché come dico sempre il problema della Marvel non è che mette le battute e che battuta ha fatto ridere ridiciamola ancora lo sto ridendo ridiciamola ancora e che due coglioni possiamo andare avanti no la diremo altre due o tre volte ho capito ho riso la prima volta non dovete andare avanti state calmi state calmi qui questa calmata se la danno e la cosa funziona tantissimo e chiariamo sebbene nessuno degli attori abbia il carisma adatto a sorreggere tutto il film oddio un paio ci sarebbero ma il tipo di ruolo che hanno impedisce loro diciamo di prendere le redini complete del film comunque al di là di questo in realtà il cast per me funziona si è parlato appunto di Letitia Wright il suo problema appunto è che le manca la presenza scenica necessaria ma in sé non mi sento di dire che dà una pessima performance in generale non la dà nessuno ovviamente non darei l'Oscar a nessuno di loro ci mancherebbe altro ma non me la sentirei neanche di candidare ad esempio a Lazio Award per dirne una quindi in quel senso per me funzionano ultimo grosso pregio sono appunto certi intenti del film nel senso le tematiche affrontate sono molto interessanti oltre all'ovvia elaborazione del lutto anche se in questa cosa ci sono pro e contro ma non posso dire nulla per non fare spoiler e poi ve lo dico dopo ci sono vengono comunque accennate delle cose di politica estera ovviamente in ottica fantascientifica di Vibragno che però sono sono interessanti c'è una velata critica agli Stati Uniti che purtroppo non viene esplorata del tutto ho il vago sospetto che se la stiano tenendo in caldo per il futuro ma temo non per i film ma per delle serie perché hanno annunciato un po' di progetti sul Wakanda e io sinceramente preferirei abbandonassero le serie tornassero a fare solo film si destero un attimino una calmata però Disney Plus chiede contenuti fate degli special visto che vi riescono anche meglio a giudicare da Lycanthropus piuttosto che le serie che sono lunghe molte almeno qui in Italia non piacciono in realtà in America piacciono un po' di più quindi vabbè alla fine c'ha ragione loro in questo senso comunque insomma io temo che appunto si terranno questa cosa per il futuro e poi ci sono in particolare delle tematiche si cerca anche di costruire dei parallelismi con quello che ha fatto Challa con quello che devono fare adesso i protagonisti insomma ci sono delle riflessioni delle cose che mi sono piaciute molto e che confermano che comunque a livello di tematiche Black Panther è una delle saghe più mature in generale del Marvel Cinematic Universe e quelle le ho apprezzate particolarmente ci sono in particolare delle scelte finali che mi fanno dire molto interessante quindi appunto non è un film da buttare ma capisco quelli che dicono gli do un 6 non riesco a dargli più di 7 non ho avuto quell'entusiasmo che invece avevo dopo Black Panther Black Panther che tra l'altro ricordiamolo io lo vidi in una tripletta cioè con degli amici mi ero visto in un unico giorno il film d'animazione della Armand i primitivi avevo rivisto la forma dell'acqua che me l'ero l'avevo già visto a Venezia e poi ho visto appunto Black Panther eppure nonostante quella giornata carichissima ero uscito molto contento io dal cinema e chiariamo la forma dell'acqua era più bello ci mancherebbe altro però comunque come visione finale l'avevo molto gradita poi la forma dell'acqua già sapevo che era bello invece in Black Panther avevo avuto più più la sorpresa dunque insomma per me il primo Black Panther era migliore lo misi anche nelle menzioni speciali tra i migliori fino al 2018 questo non penso che lo farò lo devo rivedere lo vedrò sicuramente una seconda volta perché ci sono altre persone che conosco che lo vogliono andare a vedere temo che non lo vorranno vedere in lingua originale perché secondo me migliora in lingua originale non è che sia doppiato male ma credo che il trasporto degli attori lo sentirei di più in lingua originale però appunto mi unisco anch'io alla schiera di chi dice non da bocciare perché sarebbe veramente ingeneroso ma purtroppo è un film che ha molte ambizioni e purtroppo non è all'altezza che è un problema questo film diciamo che riassume in sé alcuni dei problemi che hanno molte produzioni contemporanee ovvero non saper gestire benissimo il ritmo e avere delle ambizioni che è un'ottima cosa ma non essere sempre in grado di sostenerle e questo deve anche mettere in testa sia una certa fetta di pubblico generalista o anche di cinefili sia proprio le case di produzione che girare un blockbuster non è semplice che uno pensa ma si è un cazzo di blockbuster cosa ci vuole fai lì metti due esplosioni un po' di gente che si picchia boom 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 una trama del cazzo e va tutto bene no ragazzi serve serve il giusto occhio serve una propria visione non è affatto semplice diciamo che qui senti proprio Ryan Coogler che dice eh cacchio devo stare attento devo mangiare Chadwick devo tenere fede a quanto è stato cioè devo tenere fede all'aspettativa perché questo è un film molto importante per la gente di colore di cui tra l'altro anche Coogler fa parte l'avete visto di colore pure lui e questa cosa un po' lo schiaccia schiacciava peggio John Watts in No Way Home ma lì proprio si vedeva che era lì con la baracca aiuto non riesco a tenerla c'è troppa roba qui appunto Coogler regge un po' meglio ma non regge ancora del tutto ecco siccome ho citato No Way Home una cosa in questo film sono ridotte al minimo le citazioni esterne niente camei singolari niente fanservice questo è sicuramente gratuito quantomeno questa è una cosa sicuramente apprezzabile in un'epoca in cui invece questo tipo di cose abbonda sebbene effettivamente il mio film è il suo preferito di quest'anno sia Strange in cui c'è proprio il momento cameo che però ho gestito benissimo per quel che mi riguarda chiudo l'ultima cosa prima di finire la parte senza spoiler c'è solo una scena dopo i titoli di Conan anzi c'è durante una scena mid credit che ho trovato estremamente idiota molti amato si sono commossi ok capisco l'intento ma no no per me è una troiata no 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 quella è proprio X rossa per quel che mi riguarda tremenda ne parlerò bene tra poco nella parte spoiler detto questo quindi chiudo la parte senza spoiler grazie a chi ha seguito questa parte di video saluto appunto chi ancora non ha visto il film e vuole evitare spoiler se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete e tornate quando avrete visto il film mentre invece per chi l'ha già visto o se ne fregate gli spoiler 5 4 3 2 1 spoiler allora vabbè partiamo dalla questione morte di C'alla io ai tempi quando cioè proprio poco dopo la morte quando si era detto faremo il 2 senza C'alla cioè lo faremo morire e ci sarà appunto Namor o Namor come si chiama adesso io pensavo ah magari collegano il fatto che sono stati gli Atlantidei a uccidere C'alla poi man mano che sia andata avanti la mia opinione è virata sempre più sul lo faranno morire di di una malattia magari non meglio specificata per fare il parallelismo con Boseman in effetti è quello che succede la prima scena del film è Shuri che sta cercando di ricreare la foglia di Black Panther per salvare il fratello da questa misteriosa malattia che sicuramente non nomineranno mai più non sapremo che cacchio sia e come mai il Wakanda che ha le tecnologie quasi magiche non è riuscito a curarla perché è proprio il pretesto il super pretesto fatto perché deve ammazzare il personaggio perché è morto l'attore e comunque mi piace l'idea che Shuri sia talmente impegnata a cercare di salvare il fratello che non gli stia accanto infatti a un certo punto c'è qualcuno di fianco che dice ma sua principessa non dovrebbe stare accanto a suo fratello lei dice no non c'è tempo e appunto nel film lei non riesce a superare il lutto per il fratello anche per il senso di colpa di non averlo salvato e un po' anche appunto di non averlo salutato perché poi arriva semplicemente la madre a dirle tuo fratello ora è con gli antenati non ha potuto neanche dirle addio che effettivamente per dire io ho avuto modo di salutare magari non proprio il momento prima della loro morte ma tipo quando si è capito che i miei nonni erano agli sgoccioli un paio sono riuscito a salutarli poi magari ci hanno messo qualche giorno prima di lasciarci però almeno un ultimo saluto l'ho potuto dare non ha l'ultimo mia nonna che ci ha colto di sorpresa però in altri casi ho avuto questa chance Shuri non è che non l'ha avuta se l'è negata e questa è insomma una cosa una cosa interessante anche il fatto che lei rifiuti di bruciare le vesti funebri che è un modo per andare avanti ma lei non lo fa lo farà soltanto alla fine nell'ultima scena prima che inizino i titoli di coda ed effettivamente è interessante che si vede appunto anche la rabbia per il lutto qui però sorgono alcuni problemi innanzitutto in un paio di occasioni si vede che Shuri essendo una super scienziata è molto attaccata alle cose terrene quindi dubita ad esempio dell'esistenza della Dea Pantera del Wakanda o in generale dubita dell'esistenza dell'aldilà che è una cosa che ci può stare se rapportata al nostro mondo quando un tuo caro muore c'è sempre chi dice ora in un posto migliore o cose di questo tipo e poi c'è qui dice ma no sono tutte boiate cazzate per consolarci non rompetemi le scatole ripeto nel nostro mondo è realistica ma siamo nell'MCU e non puoi non tenere conto del fatto che è un mondo in cui in mezzo universo si è sbriciolato e poi si è reintegrato dopo 5 anni compresa Shuri stessa ricordiamolo cioè davvero sei così ok allora da quel che si è capito nessuno ha sentito di essere stato nell'aldilà anche perché allora questa è una scena tagliata però credo che siamo in uno dei pochi casi di scena che possiamo considerare come vera a meno che non la smentiscano nei film in una scena tagliata di Endgame l'antico diceva che se vieni schioccato non è che muori vieni proprio cancellato dall'esistenza quindi non vai neanche nell'aldilà e quindi appunto quando poi Hulk ha ripristinato tutti compresa Shuri per lei non ha neanche vissuto nell'aldilà non ha incontrato nessuno di là è ok però dubiti dell'esistenza delle divinità in un mondo con Thor ok lei e nessun altro ha visto il mega raduno di dei in Thor loventanti in cui abbiamo visto appunto anche Zeus dei greci dei di varie culture si vede in un certo punto anche la diapantera del Wakanda quindi esiste pure lei però che nell'MCU si sia scettici a cose spirituali mistiche ma che davvero o persino Tony Stark che non si è stupito di avere davanti il dottor Strange che era un cazzo di mago fino a qualche anno fa mi ha detto che assurdità è quindi non è credibile come disse ai tempi di Spider-Man Far From Home l'iquale era l'intuizione geniale arrivava un tizio che diceva io vengo da un altro universo e tutti se la bevevano e c'è stato che ha criticato quella cosa dicendo ma che senso ha tutti si bevono una storia così va bene le fake news e bla bla ma nell'MCU è credibile cioè questo è il punto cioè con tutto quello che aveva vissuto l'MCU fino a quel momento che arrivasse uno a dire esiste il multiverso non era così strano anche perché ricordiamolo poi è stato buono che il multiverso esiste davvero quindi effettivamente nell'MCU tu puoi dire quello che vuoi e risulterai credibile quindi vedere una persona scettica in termini di spiritualismo al di là delle robe varie io ero lì che pensavo no inoltre c'è un altro problema sebbene sia comunque abbastanza sentito il lutto per Ciala io ho sentito molto di più il lutto per per sua madre perché anche la madre di Ciala e Shuri ci lascia le penne a sorpresa probabilmente l'avrebbero uccisa anche nel film originale e semplicemente a meditare vendetta sarebbe stato Ciala e non Shuri perché sostanzialmente qui si va a fare a Shuri un percorso parallelo a quello del fratello in Civil War quando in Civil War Ciala aveva perso il padre voleva vendetta contro Zemo poi alla fine aveva visto come la vendetta l'aveva consumato e non solo non l'aveva ucciso ma addirittura gli aveva impedito di suicidarsi infatti poi Zemo l'abbiamo anche rivisto in Falcon and the Winter Soldier qui c'è un concetto simile Shuri ha perso la madre quindi anche lì deve decidere se vendicarla o essere come suo fratello e in questo senso è molto bella e prende di significato la scena in cui lei assume la foglia per diventare Black Panther spera di vedere il fratello era ovvio che non l'avrebbe visto però lì ho pensato ok allora vedrà la madre e invece vede Killmonger ora chi ha visto faccia di nerd ricorderà che il quiz non aveva detto che il quiz non aveva detto e mi aspetto appunto lei che assume la foglia spera di vedere il fratello e vede Killmonger appunto con la madre morta ho pensato ah ok quindi mi ero sbagliato poi esce fuori Killmonger ah no ci aveva azzeccato ok meno male e perché e la cosa e quindi a quel punto però viene a chiedersi ok ma se poteva vedere la madre perché non a meno non ha visto lei anziché il fratello e qui ti fa la cosa interessante Killmonger dice tu vedi me perché hai scelto me perché in questo momento sei simile a me tu sei incazzata col mondo perché è morto ti è morto è morto un tuo caro e vuoi che il mondo bruci perché soffra come soffri tu che era quello effettivamente che faceva Killmonger ed è curioso però che in questo senso Killmonger sia allo stesso tempo un diavolo tentatore ma anche una sorta di Angelo Custode perché le dice allora sarei come me o sarei come tuo fratello che ha risparmiato l'uomo che ha ucciso vostro padre e all'inizio Shuri è incazzata nera dice no io non sono come mio fratello io ammazzerò Namor e poi infatti c'è lo scontro in cui sembra che lo stia per uccidere ma un secondo prima si ferma e dice no non lasciamo che la vendetta ci ha consumato e qui si ritorna a Challa in Civil War non lasciamo che consumi anche i nostri popoli arrenditi e ti prometto che se qualcuno ti attaccherà noi wakandiani ti proteggeremo e Iden farete voi con noi insomma un accordo di reciproca protezione ma di non belligeranza nei confronti del mondo esterno e Namor effettivamente accetta e quindi alla fine la battaglia si chiude con con la pace tra tra Wakanda e e Talokan ora qual è il problema che io ho sentito molto di più la perdita di Ramonda rispetto alla perdita di Challa probabilmente perché qui c'è da dire quando un personaggio viene ucciso perché è morto anche il suo ottore quasi sempre appunto lo capisci che il personaggio non doveva crepare lì e quindi la sua morte ti sembra innaturale invece in questo caso col fatto che Ramonda muore per uno specifico sviluppo del personaggio di Shuri fa sembrare il tutto molto più organico e ti fa sentire molto di più il dolore in più che Challa fosse morto noi lo sapevamo da un pezzo proprio perché sapevamo già che era morto Bosman il lutto per Challa per certi versi noi spettatori esterni noi spettatori appunto dell'MCU l'abbiamo già vissuto a nostro modo abbiamo già accettato che Challa non c'è più invece con Ramonda il fatto che noi la vediamo morire lì non lo sapevamo prima ci colpisce molto di più e quindi secondo me il lutto di Ramonda si sente molto di più e tra l'altro cacchio Challa era quasi morto e ucciso da Killmonger è stato schioccato da Thanos e infine è morto di malattia niente doveva morire sto personaggio povero e considerando anche il motivo per cui è morto è ancora peggio comunque tornando a Shuri appunto lei affronta questo percorso e mi è piaciuto un sacco il fatto che Mbaku la consigli perché nella prima parte del film Mbaku torna a essere il lamentoso quello che critica tutti e allora pensavo ma come il bello di Mbaku era che inizialmente era così poi diventa amico di Challa addirittura risponde al suo grido di battaglia cioè al suo richiamo nella battaglia di Infinity War dicendogli sono qui fratello era tanto bello adesso è così anche se non viene detto mi viene da pensare che appunto Challa non è che fosse tanto scusatemi Mbaku non è che fosse tanto diventato cioè si fidasse degli altri re del Wakanda degli altri sovrani delle terre del Wakanda che lui ha sempre visto male ma che lui fosse appunto affezionato a Challa e venuto o meno lui è tornata la madre lui continua a guardarla un po' con con sospetto perché ricordiamo che Mbaku è diventato amico di Challa perché Challa gli ha detto lo ha invogliato ad arrendersi durante la loro lotta per Black Panther dicendogli non voglio ucciderti arrenditi il tuo popolo ha bisogno di te dimostrando un grande onore e dimostrando perché era un grandissimo perché io adoravo quel personaggio e appunto poi Mbaku era diventato per questo suo amico e ci sta quindi che invece la madre la guardi male però mi piace che comunque vedendo la sorella che soffre lui dica ho promesso a tuo fratello che ti sarei stato vicino ti avrei dato dei consigli e appunto gli fa non uccidere Namor cerca la pace tuo padre ha risparmiato l'uomo tuo fratello ha risparmiato l'uomo che ha ucciso vostro padre si più come lui mi piace molto Mbaku continua a essere il mio Wakandiano preferito e io avrei sempre voluto lui come Black Panther al posto di Challa e lasciatemelo dire ho detto nella parte no spoiler per evitare di entrare nel dettaglio non c'è nessuno che possa reggere la scena secondo me Winston Duke ce l'avrebbe fatta effettivamente a reggere sia il film che a diventare la nuova Pantera Nera già sento i puristi dire ma Mbaku è l'uomo scimmia nei fumetti bla bla ma chi cazzo se ne frega ma ve lo immaginate che bello se diventava lui Black Panther colui che esordisce dicendo sono io Black Panther ne sono più degno dell'attuale re e Black Panther alla fine lo diventa ma lo diventa nel momento in cui lui era diventato amico del re quindi ora quel ruolo non lo vuole più è bellissimo quanto sarebbe stato bello non è andata così e mi dispiace ma Letizia Wright non ha la presenza scenica per sembrare una leader come personaggio secondario come Q del Wakanda per usare un termine bondiano andava benissimo ci stava ma come regina è tutto non ce la vedo a sto punto veramente se devi tirare fuori una Pantera Nera donna anche per Gore Power eccetera avrei sinceramente preferito Okoye che anche Okoye qui ha un bell'arco porta Shuri in missione per andare a recuperare Riri Williams tra l'altro bellissima la battuta di Okoye che sono lì all'MIT e dice stanno frequentando una versione americana della scuola del villaggio del Wakanda cioè l'MIT che è il massimo della scienza per il Wakanda è scuola normale questa cosa ha fatto ridere tutti in sala in effetti è carina e non è esagerata quindi una bella battuta grazie Shuri viene rapita a un certo punto dai Talocani Talocani non mi ricordo come si dice ma dell'abitante di Talocan e Ramonda è incazzata le toglie il comando delle guardie con lei che dice no non mi privare di questo titolo preferisco andare a morire e c'è Ramonda incazzata che è una stronza ingrata in quel momento Ramonda e sia chiaro lì è in pieno torto perché Okoye non ha fatto veramente il possibile per tenere Shuri al sicuro è stata l'avventatezza di lei a portarla a portarla appunto al rapimento però è comprensibile cioè lei dice frase che sentiva nel trailer sono la regina della più potente nazione del mondo e mi ha morta l'intera famiglia cioè questa ha perso il marito il figlio e ora la figlia è rapita per quanto sbagli perché sta sbagliando la sua reazione è umanamente comprensibile infatti Ramonda è per buona parte del film il personaggio più interessante il fatto che muoia un po' fa perdere al film però ovviamente non poteva essere la nuova Black Panther bello comunque la sua apparizione finale come visione a Shuri in cui le dice Shuri mostra loro il tuo valore e non dimostra il suo valore uccidendolo glielo mostra risparmiandolo e infatti io questo film lo sbatto in faccia a tutti quelli che me l'hanno menata con ma cos'ho di così negativo Black Adam e guardate così questi sono dei begli ideali cacchio il dire risparmia il tuo nemico anche se lo odi perché la pace più importante delle vendette personali non quel cazzo di Black Adam con la sua oscurità gli permette di fare cose ma va a cagare veramente Black Adam il suo messaggio del piffero questo film avrà tanti problemi ma si mangia Black Adam a colazione per quel che mi riguarda datemi pure del fanboy Marvel comunque sia The Batman che The Suicide Squad sono meglio di questo Black Panther quindi non venitemi a dire che apprezzo solo la Marvel e non la DC non venite a dirmelo comunque appunto questa cosa mi è mi è piaciuta però anche lì quando indossa il costume lei da Black Panther sembra una cosplayer di una Black Panther non mi sembra una Black Panther appunto aver preferito a sto punto Okoye che alla fine lei indosserà insieme a quell'altra dell'Edora Milage che ora non mi ricordo il nome Aneka personaggio tra l'altro queer perché tutti la trattano come una donna ma ha un corpo palesemente mascolino quindi adesso non sono esperto in questo senso di terminologia LGBT quindi non so se sia più queer transgender chi è esperto me lo scriva nei commenti così può informare anche il resto di chi mi ascolta però comunque insomma è il primo personaggio dichiaratamente appartenente a questo tipo di categorie che appare nell'MCU sono veramente due scenette così che lasciano il tempo che trovano però sono state sufficienti a far bandire il fin dalla Cina e diciamo che nel piccolo è uno sforzo apprezzabile il problema è non è che per dieci anni andiamo avanti così e basta perché sennò diventano cose che veramente fanno ridere tipo da spunta no? personaggio LGBT che si vede per due secondi minimo sindacale fat checked insomma vedremo se la sviluppa non andando avanti appunto lei e Okoye hanno queste due nuove tutte da Blue Angel che sono ben capito una reference fumettistica due parole su Riri Williams ovvero Ironheart qui viene appena introdotta la vediamo alla fine con un'armatura molto giocattolosa ma ci sta in fondo è una ragazzina super geniale c'è chi ha ipotizzato si scoprirà che il patrigno con cui ha costruito l'auto era Tony Stark che mi sembrerebbe una retcon abbastanza forzata però vedremo vedremo come la gestiranno perché appunto spiegherebbe perché questa guarda caso ha costruito proprio roba simile simile a Roma però a sto punto non so fai che il padre è morto il patrigno era Rudy ed è per questo che conosceva Tony Stark anche qui sarebbe una retcon che dovrebbe infilarsi un po' a forza ma si infilerebbe meglio del padrino come lo stesso Tony Stark comunque armatura giocattolosa ripeto ma ci sta carine le scene in cui lei è lì totalmente impaurita oh mio dio la CIA è venuta a cercarmi tra l'altro CIA che qui viene mantenuto CIA ma chiama la CIA in italiano perché mantenere sta roba vabbè non l'ho capita comunque la CIA sta venendo a prendermi oppure oh mio dio siamo in una città sottomarina insomma roba niente male comunque alla fine appunto aiuta a sconfiggere Namor e boom c'è questa sottotrama che appunto viene un po' lasciata lì di di Everett Ross che si scopre essere l'ex marito della direttrice La Fontaine che sarà con lei che poi recluterà i Thunderbolts alla fine lui viene messo in prigione ma arriva Okoye a liberarlo e appunto lo rivedremo in Black Panther 3 o in qualche serie espionistica del Wakanda preferirei che facessero sta roba in Black Panther 3 ma ho paura come dicevo prima per la seconda comunque Ross continua a starmi molto molto simpatico adoro il suo rapporto con i Wakandiani continua a piacermi molto quello che dice io conosco i Wakandiani mi hanno salvato la vita sono delle brave persone mi piace questo tema che ritorna di come salvare le persone anche quando sembra una cosa che non dovresti fare aiuta infatti avevi da un lato il padre di Challa che aveva ammazzato il fratello creando quel pazzo di Killmonger dall'altro abbiamo comunque Challa che prima risparmia Zemo poi risparmia Mbaku anche se lui stesso aveva voluto ucciderlo e infatti poi Mbaku lo salverà vediamo appunto Shuri che risparmia Namor con una possibile futura alleanza poi vedremo gli sviluppi vediamo appunto Ross che sendo stato salvato che se in teoria non si poteva salvarlo per mantenere il segreto del Wakanda ma salvandolo appunto questo paese si è guadagnato un fidato amico veramente mi piace un sacco questo tema ed è molto bello che continui a riemergere in Baku ho già detto parliamo appunto di Namor ora nei fumetti abbiamo appunto Namor re di Atlantide si sapeva che Atlantide non sarebbe più stato Atlantide perché perché al cinema è uscito Aquaman dove anche lì c'è il re di Atlantide ora fumettisticamente parlando Aquaman infatti non è altro che la trasposizione DC del personaggio appunto di Namor infatti esattamente sia Namor che Aquaman nei fumetti sono figli di un reale di Atlantide e di un essere umano per la precisione Aquaman ha madre regina di Atlantide padre umano Aquaman scusatemi Namor l'esatto opposto e poi appunto entrambi sono i re del del loro rispettivo popolo anche se nel caso di Namor la cosa viene vissuta se ho mai capito con qualche difficoltà in più visti appunto le sue origini umane e dove Aquaman è un eroe tutto ad un pezzo Namor è sempre sul filo tra buono e antagonista anche nella storia anche qui appunto lui si scontra un po' con Iron Man perché pur rispettando gli Avengers tende a non fidarsi troppo del mondo di superficie qual è il punto però che essendo uscito prima Aquaman al cinema molti avrebbero detto ah la Marvel sta copiando la DC in quest'ottica la DC si è presa diciamo la sua rivincita perché quante volte l'MCU ha tirato fuori cose che a livello fumettistico la Marvel ha preso dalla DC ma essendo arrivata al cinema prima con la Marvel sembra che sia la DC a copiarle Darkseid che sembra una copia di Thanos quando in realtà è il contrario soprattutto gli Avengers che nascono come risposta alla Justice League al cinema e la Justice League a nascere come risposta tra l'altro fatta malissimo degli Avengers qui ironicamente proprio con un personaggio che la DC a livello di fumetti ha copiato dalla Marvel e qui proprio la DC gli ha fatto toh almeno per una volta l'abbiamo fregato noi quindi cosa è successo Kevin Feige ha detto ragazzi non possiamo essere troppo fedeli ai fumetti perché qui se no sembra che copiamo quindi Atlantide diventa Talocan non viene mai citato il fatto che abbia ispirato Atlantide anche perché viene detto che Talocan esiste da tipo 400 anni come esattamente come Namor che anche lui ha più o meno quell'età e tra l'altro non ce l'avevo fatto a caso subito ma i Talocani diventano blu quando escono dall'acqua ma finché sono sotto hanno il colorito normale perché basta vedere la madre di Namor quando lo partorisce lei mangia il fiore mentre è ancora umana cioè mentre è ancora incinta e diventa blu però poi quando partorisce il figlio sott'acqua effettivamente lei ha il colore normale appunto perché credo che sia un effetto dell'acqua il blu è solo quando sono fuori l'unico immune a questa cosa è appunto Namor il quale infatti riesce a respirare sia dentro che fuori dall'acqua a meno che non ci sia quel particolare procedimento per cui non riesce più a assimilare l'ossigeno attraverso la pelle e come ha detto giustamente il buon Kalamat con cui ho visto il film praticamente per fottere Namor devi metterlo in una sauna ovviamente è una sauna tecnologicamente avanzata ma sì di fatto è una sauna ora l'origine in sé non mi dispiace anche perché come fan se ci pensate bene così come il Wakanda si fa portavoce a livello appunto metanarrativo di delle varie comunità di colore che sono perseguitate nel resto del mondo Talocan si fa diciamo portavoce in maniera popo fumettistica dei cinefumettistiche anzi di tutte quelle popolazioni indigene dell'America che sono state sterminate dai coloni questa cosa mi piace l'unica cosa è lui si chiama Namor perché c'era questo frate spagnolo che mentre moriva mentre loro stavano distruggendo lì il loro accampamento per vendicarsi del fatto che stavano schiavizzando degli indigeni gli ha detto tu sei il bambino sinamor senza amore e quindi ora mi chiamo Namor perché non provo amore per la gente di superficie no ok questa è stupida cioè questa cosa dei nomi così fa veramente proprio fumetto ma di quelli vecchio stampo veramente stupidotta ma a parte la cagata del nome il resto mi piace all'inizio è un po' stile un po' no dicendo dateci la scienziata che ha creato il detector del vibragno così non verranno più a romperci le scatole alla fine rapiscono appunto sia Riri che che Shuri solo che il Namor è abbastanza sembra ben disposto verso Shuri che le dice guarda vieni con me ti faccio vedere la mia città ti faccio capire cosa sto proteggendo io non voglio che vengano che la mia città venga distrutta e quindi io e te guidiamo le due più potenti nazioni del mondo dichiariamo guerra al resto del mondo Shuri dice col cazzo proprio arriva poi Nakia a liberarli uccidendo anche una una talocana che Namor che Namor chiama figlia mia ma non credo che sia sua figlia davvero cioè semplicemente lui essendo re e dio di talocan è come se fossero tutti i suoi figli in fondo anche Shuri chiama Okoye sorella ma non sono realmente sorelle quindi c'è un po' quest'idea in entrambi i casi di queste tribù in cui è come se tutto il regno fosse una sorta di famiglia che è una cosa che è un concetto che non mi dispiace neanche e quindi appunto vedendo la morte di quella che effettivamente sembra una semplice ancella Namor la interpreta come un atto di guerra attacca il Wakanda uccide appunto Ramonda e dice ve la siete cercata tra una settimana ritorno o ci aiutate a fare il culo al resto del mondo oppure saranno uccelli per diabetici per citare una commedia italiana Shuri si incazza diventa Black Panther parte questa battaglia che come hanno fatto notare l'esercito di Talocan non sembra così grosso come avevano paventato però c'è da dire che in quel momento lì c'è solo una parte dell'esercito attirata appunto dall'esca quindi ha un certo senso che non siano tantissimi secondo me vedremo eserciti molto più grandi di Talocan in futuro c'è tutta la battaglia alla fine Shuri quasi uccide Namor ma poi lo risparmia e qual è la cosa carina che alla fine c'è Namor che è cugina di Namor un personaggio che c'è anche nei fumetti che dice ma io ho sognato di combattere al tuo fianco per tutta la vita perché hai accettato un'alleanza con il Wakanda e lui risponde guarda Shuri aveva tutte le ragioni per uccidermi ma non l'ha fatto il Wakanda per quanto potente sia non ha alleati noi ora siamo i suoi unici veri alleati e qui viene un po' giustificato il fatto che non ci siano altri Avengers perché appunto il Wakanda si sta un po' isolando anche dagli eroi della Terra e quindi la questione qual è il giorno prima o poi qualcuno farà uno sgarro attaccherà il Wakanda che già si vede all'inizio quest'attacco dell'America con Ramonda a Ginevra che porta lì i prigionieri e dici non ve li abbiamo uccisi ma il prossimo che ci attacca lo consideriamo un atto di guerra e allora gli facciamo un culo gli facciamo il culo quadro un po' violento però cioè gli ha già molto più senso questo modo di posto e dici ora vi abbiamo risparmiati però vi avvertiamo e la prossima volta sono cazzi vostri perché ci attaccate voi la nostra sarebbe legittima difesa mi piace è un bel concetto e che è un po' appunto quello che esprime in maniera ancora più esagerata Namor però lui dice appunto voglio dichiarare guerra al resto del mondo mentre invece Ramonda dice solo noi non vogliamo attaccarvi però voi non attaccate noi e appunto il discorso finale di Namor è il giorno in cui gli attaccheranno in maniera molto più violenta noi saremo lì a tendere loro una mano e a quel punto effettivamente Namor vuole ancora dichiarare guerra al mondo di superficie ma sapendo che gli serve il Wakanda dice va bene con le cattive non ha funzionato aspettiamo poi lui invecchia in maniera estremamente lenta come viene detto il fatto che sua madre abbia mangiato la foglia mentre lui ancora nel suo grembo lo ha mutato in una maniera particolare lo ha reso un mutante e quindi appunto succede poi cioè appunto succederà quello che succederà sicuramente a un certo punto Namor ci ripenserà e suo cugino Atuma che viene introdotto qui diventerà il cattivo principale io avevo scommesso anche nel Quizzone che sarebbe stato il cattivo fin da adesso e invece no in questa cosa ho sbagliato però è interessante qui l'idea di un antagonista che non è proprio buono buono però appunto si muove in questa zona grigia vedremo come lo gestiranno in futuro anche se non mi aspetto un film dedicato solo a lui anche perché il re di una nazione fantascientifica slash fantasy che combatte contro il proprio cugino è la trama del primo Black Panther secondo me ci starebbe che appunto quando scoppierà il conflitto contro Atuma e ci sarà il Wakanda ad aiutare Namor Shuri dirà eh combatti contro il cugino eh ci siamo passati anche noi fanno notare in maniera ironica renderebbe il tutto più accettabile a livello narrativo altre considerazioni sparse fa un po' strano che Ramonda muoia dopo essere restata due minuti sott'acqua visto che anche Riri sopravvive lì un po' forzato mi fa ridere una delle sovrane delle regioni del Wakanda che dice come si combatte qualcuno con una potenza sovrumana siete nell'MCU l'avete dimenticato ok infatti a un certo punto ehm quando Baku dice è meglio non cercare di ucciderlo eh dice che è una forza simile a Hulk che in effetti è fortissimo però appunto la cosa lì del come si abbatte uno sovrumano mi fa abbastanza ridere in questo contesto Nakia ha un ruolo estremamente marginale brava Nupitaliongo a rendere il lutto ma a me della sua love story con Challa non me ne è mai fregato assolutamente nulla e la scena mid credit avevo sentito sta ipotesi ma l'avevo liquidata come idiota perché porca troia perché sorpresa delle sorprese Challa e Nakia hanno procreato e ora c'è sto bambino che si chiama Tusson sono aspettato un attimo Tussan spero di averlo pronunciato bene mi scuso con chi è di Haiti che dice appunto quello è il mio nome è come se un domani arrivasse Tony Stark da un'altra dimensione e Boom lo rimpiazzi con suo doppelganger sarebbe veramente brutto e l'MCU questa cosa l'ha anche fatta notare molto bene in Doctor Strange il figlio di Challa che si chiama come il padre e non è Nakia non è venuto al funerale perché non voleva esporre il figlio tra l'altro attenzione Ramonda lo sapeva ma Shuri no perché Shuri non sapeva del cui ma poi cioè Challa tieni tua sorella all'oscuro del fatto che è un nipote esattamente come tuo padre ti ha tenuto all'oscuro che aveva un fratello e un cugino non mi sembra cioè questa mi sembra proprio una cosa che non ha imparato molto Challa dagli errori del passato cosa che invece hanno fatto che imparare dagli errori del passato è proprio un tema portante di questo film insomma una scena mi credo veramente a cazzo a cazzo che ha fatto piangere molti americani che ovviamente oh Challa un figlio non è comovente non è comovente è una boiata a sto punto mi dispiace è una troiata quindi appunto cose belle e cose meno belle in questo film sta poi a voi decidere se dare più peso ai lati negativi che a quelli positivi alla fine anche dopo averne parlato lo sto apprezzando di più fare le decisioni aiuta anche a me a valutare a digerire meglio certi film a farmi capire meglio certe cose il dover pensare a cosa dire e quindi in definitiva sì deludente rispetto alle altissime aspettative e in questo caso no non è colpa del pubblico perché un conto è appunto vedere in un frame un personaggio vestito da diavolo farsi le mega teorie su Mephisto e poi ma che schifo Mephisto non c'è chi cazzo l'aveva mai detto quello sono problemi del pubblico se invece un film ha dei tele spettacolari ma poi non è all'altezza di quei trailer è merito di chi ha fatto i trailer e demerito effettivamente demerito del film appunto però appunto nonostante essere all'istotto delle aspettative dei lati positivi secondo me comunque li ha non lo boccio totalmente ma molto inferiore appunto al primo capitolo che era anche quello imperfetto ma molto più fresco interessante secondo me detto questo quindi il video finisce qui grazie per averlo seguito come sempre se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete e ci vedremo a un prossimo video ciao ciao ragazzi a un prossimo video